wow wow spacca spacca questa spacca no non spaccare speriamo di no ha una forza è blondito che cosa riuscì mi ha piegato la canna io sto tenendo più che posso ma ha puntato in su là ci sono tutta una serie di rami se prende un ramo è finita mamma guarda la canna come è piegata ti ho detto che era lì che saltava guarda che l'ho sentito prima io madonna è qua sotto cazzo si è grossa mortacci sua allora mi serve il guadino si è andata a ingrovigliare mezza allora il guadino guardala guardala si è liberata si è liberata eccola lì wow la tieni qua brava gloria tieni qua tanto ci vorrà ancora un po prima che la ripariamo e la guadignano che è lì che è grossa è grossa è veramente grossa guarda che bella guarda che bella ciao bimba è forte sai è proprio forte non sarà facile tirarla fuori eh io non ci vedo un cavolo papà vabbè non ti preoccupare tu filma qualcosa verrà fuori no dai che sei stanca ammazza l'abbiamo liberata due volte dai rami eh wow adesso devo trovare solo il punto per guadinarla vieni vieni vogliamo che tenga il filo oh riparte devo farla montare un po' su forse guarda di nuovo a guadino lì dove era prima questo è questo video vicino qua un piccolo varco qua sotto il problema è farla arrivare qua dai bella dai dai bella dai va benissimo mi hai fatto divertire papà mi sa che il filmaggio non andrà tanto bene non ti preoccupare stai tranquillo ti filmo l'acqua vedrai che alla fine il filmaggio si vede perché ora c'è la luce contro ti rompe un po' le balle vai che la portiamo a guadino piano piano eh piano piano perché è grossa e le scaglionate tirano proprio tanto perché sono carpe che vivono molto bene in corrente questa ha dato tutto tutto vieni bella vieni 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 qua vieni vieni qua vieni 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 che ci sei quasi vieni vieni che ci sei quasi oh oh che carta ragazza guarda che roba guarda che carta porca miseria di carpone è un mostro è grossa forte è grossa forte nel filmato non si vede quanto è grosso è bello è una bella carpone ha saltato questa è la vista gloria ha vista la gloria e poi il papà ha deciso di prenderla alla presa insomma questa è veramente una bella cattura adesso poi qui la vorremmo pulire si però adesso liberiamola da questo retino aspetta dobbiamo far piano piano se no spacchiamo il filo o la canna no la canna no allora facciamo una cosa via blondi spostati da lì wow che carpa wow che bella wow che boccona mamma mia che carpone guardate un po' che meraviglia eh si 5 kg tutti wow wow che bella ciao bella eccoci qua ora ti liberiamo ora ti liberiamo ce ne andiamo a casa a mangiare grazie per avermi fatto divertire e così hai mangiato anche tu è un po' difficile togliere è all'amata abbastanza bene ecco non è semplice allora vediamo un po' tieni questo filo qua tirato gloria così e io con il dito spingo in avanti tira tira gloria niente ci vogliono le pinze allora le pinze sono qua ecco come si fa a slammare un pesce a slammare un pesce